Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Sparo e Soccose. La Prima Guerra Boera viene spesso messa in ombra da un'altra guerra svoltasi in quelle zone. Dal nome Prima Guerra Boera possiamo intuire che si tratta della Seconda Guerra Boera, molto più famosa sia per la durata sia per l'enorme scala delle operazioni militari che si sono svolte. E spesso quando si dice soltanto Guerra Boera si intende la seconda. La Prima rimane però sempre un punto fondamentale della nostra storia, anche se in una scala molto più piccola. È un punto fondamentale sia politico che militare. Riprendiamo quindi la nostra storia dove l'abbiamo lasciata. Se per caso non avete visto i capitoli precedenti sappiate che questo è il terzo video di una serie sulla storia del Sudafrica. E per stare sulla stessa pagina vi consiglio vivamente di darla a vedere. Lo trovate per esempio qui nell'angolo, se cliccate vi usciranno fuori i due video precedenti. Comunque, la guerra anglo-zulu del 1879 pose fine alla minaccia della fiera tribù, però riaccese i contrasti tra i boeri e gli inglesi. Quest'ultimi, come abbiamo visto, hanno tollerato l'annessione del Transvaal del 1877 solo a causa della minaccia zulu e alla promessa dell'Inghilterra di risolverla, promessa tra l'altro mantenuta. Ma rimosso il nemico comune, i boeri tornarono a vedere la Gran Bretagna come una nazione estranea che occupava il loro territorio e che minacciava in generale i loro diritti e quindi la pace in quelle zone non sarebbe durata a lungo. Infatti, solo un anno dopo la guerra anglo-zulu si giungerà al primo conflitto boero. L'11 novembre del 1880 un contadino boero che passava a Potschefstrum e sappiate che massacrerò ogni nome possibile in olandese vide il proprio carro confiscato dagli inglesi perché si rifiutava di pagare una tassa extra per il passaggio. Cento uomini guidati da Piet Cronier, una persona e un nome che vedremo in futuro perché sarà importante nella Seconda Guerra e per la storia del Sudafrica, andarono a riprendersi con la forza questo carro dagli inglesi per restituirlo al contadino. Questa era la scintilla che fece scattare la ribellione. L'8 dicembre dello stesso anno più di 8.000 boeri si erano riuniti e avevano letto i propri rappresentanti che si erano formati in un governo in un triunvirato guidato da tre persone. Paul Krugel, Piet Joubert e Martinius Pretorius, figlio del famoso Andrius Pretorius che abbiamo già visto nel primo capitolo e del quale appunto abbiamo già parlato. Il 13 dicembre viene dichiarata l'indipendenza della Repubblica del Sudafrica, anche nota come Transvaal, principalmente per non confonderla con il Sudafrica, inteso come il Sudafrica di oggi o il Sudafrica inglese. Diamo un'occhiata innanzitutto alle forze in campo. L'esercito inglese per quanto riguarda le tattiche e gli armamenti era lo stesso di quello che abbiamo visto nella guerra anglo-zulu. Del resto è passato soltanto un anno da questo conflitto. Con due importanti differenze, la prima è che i soldati inglesi erano molti di meno di quelli impiegati nella guerra anglo-zulu. Nel totale nella prima guerra boera verranno impiegati circa 1.400 soldati irregolari britannici, mentre per esempio per la seconda invasione del Zululand erano stati 16.000. Seconda cosa, non si farà praticamente uso di reparti nativi ausiliari che, se vi ricordate, erano in realtà la maggior parte delle forze britanniche durante la guerra anglo-zulu, anche perché i reparti nativi in questo caso non sarebbero stati considerati sufficientemente leali. Banalmente se si fossero schierati al fianco degli inglesi e poi fossero passati dalla parte dei boeri, magari ottenendo così per se stessi una certa indipendenza-autonomia, sarebbe stato problematico, come ben capite. Gli inglesi, anche forti della loro tradizione militare e della loro recente vittoria, avevano sottovalutato parecchio l'efficienza militare boera. E per questo, nell'arco di questa guerra, si troveranno in inferiorità sia numerica che tattica. D'altra parte, i boeri non avevano un esercito permanente. In caso di necessità, ogni regione poteva richiamare all'armi i propri cittadini, cittadino che doveva procurarsi da solo l'arma, le munizioni e anche portarsi il cavallo. Questa milizia territoriale era organizzata per zone e ogni zona aveva il suo commando. Questa parola ci fa pensare alle forze speciali e in parte questo significato, la parola commando, nascerà appunto nelle due guerre boere, ma inizialmente il significato della parola è diversa. Vuol dire letteralmente comando, inteso come comando territoriale, potremmo dire reggimento, ovvero un'unità legata specificamente ad un territorio. I boeri ovviamente non avevano uniformi, ognuno si metteva i suoi abiti civili e avevano una grande varietà di armi e munizionamento. Ci furono sporadici casi di boeri che non avevano armi adatte o avevano armi completamente obsolete e quindi vennero riarmati con un prestito, diciamo, dallo Stato, ma furono una minoranza. La maggior parte comunque era armata con fucile a retrocarica, per esempio i Wesley Richards, che costituivano la maggioranza dell'equipaggiamento boero, ma anche i Martini Henry inglesi. Inoltre erano presenti un numero abbastanza cospicuo le carabine Spencer, Winchester, il Wetterly svizzero e armi più vecchie come lo Snyder Enfield. Parecchi combattenti inoltre e armi giunsero dalla Repubblica Sorella dell'Orange, che non abbiamo ancora vista ben coinvolta, se ne stava lì buona, ma zitta zitta li aiutava. I boeri avevano due grandi vantaggi. Certo, non erano soldati professionisti come gli inglesi, ma innanzitutto ognuno di loro aveva un cavallo. Per cui le unità boere erano estremamente mobili, aiutata anche dal fatto che conoscevano bene il terreno. Potevano quindi muoversi molto rapidamente e molto efficientemente, facendo al meglio uso della loro mobilità e del terreno, per sfruttarlo a proprio vantaggio. Secondo, i boeri erano uomini di frontiera, erano contadini, erano cacciatori, e quello che mancavano rispetto a un soldato inglese, ovvero per esempio la disciplina o il corpo a corpo, lo compensavano con una eccellente abilità nel tiro. I comando boeri spesso negli scontri a fuoco si dividevano in due gruppi, anticipando una tattica modernissima che è praticamente utilizzata ancora oggi, quello del fuoco e del movimento. Il primo gruppo era composto dai più anziani, spesso fisicamente un po' più deboli, ma ottimi tiratori dopo decenni e decenni di vita nella frontiera. Essi assumevano una posizione fissa in copertura e inchiodavano con del fuoco preciso il nemico, mentre l'altro gruppo, quello dei più giovani, magari non così esperti nel tiro, ma in una buona forma fisica, aggirava e affiancava il nemico per colpirlo dai fianchi appunto o dal retro. Torniamo quindi agli avvenimenti. La prima mossa a Boera fu quella di assediare le guarnigioni inglesi nel Transvaal. Non erano tanti questi inglesi, ma erano di certo avversari formidabili. Se trincerati in un piccolo deposito potevano resistere veramente tanto e assaltare un deposito del genere non sarebbe stato facile. Quindi la mossa corretta era assediarli e costringerli, alla resa per fame sostanzialmente. 268 uomini del 94esimo fanteria vennero mandati dall'Indenburg a Pretoria per cercare di alleviare la situazione della guarnigione appunto a Pretoria. Poco prima di arrivare nei pressi di una cittadina e del guado di un fiume chiamato Bronhorstbrut, scusatemi di nuovo la pronuncia, ma non solo l'olandese, il 20 dicembre gli appare un boero che gli informa che il trasvale è indipendente e di andarsene in poche parole o altrimenti avrebbero aperto il fuoco. Il comandante inglese ordinò di distribuire le emudizioni della colonna dei carri che accompagnava questo reparto di fanteria e improvvisamente i boeri aprirono il fuoco. Sul lato sinistro della strada e sul retro della colonna infatti erano nascosti circa 250 boeri a una distanza di 200 metri. L'imboscata durata una quindicina di minuti fu assolutamente devastante. I boeri, ben cammuffati nelle proprie posizioni, ebbero rapidamente ragione dei soldati inglesi con le loro visibilissime giube rosse. E alla fine della battaglia il bilancio fu chiaro. I boeri avevano perso due morti e cinque feriti, mentre gli inglesi 156 morti e feriti e i restanti tutti prigionieri. L'intera forza inglese venne o uccisa o catturata. La battaglia di Bronchor Sprout fu una netta vittoria boera. Il comandante inglese che in quel momento risiedeva nel Natal, Sir George Colley, non prese questa sconfitta molto sportivamente. E invece di attendere disposizioni o rinforzi, mobilitò tutte le truppe a sua disposizione. Circa dieci compagnie di fanteria regolare, uno squadrone di cavalleria, un distaccamento della marina inglese con due cannoni e una batteria di quattro cannoni di artiglieria regolare. Con questi 1200 soldati al seguito iniziò la marcia verso Pretoria, dovendo però passare in una parte abbastanza montuosa. Nel particolare, in un passo chiamato Langs Neck, e i boeri erano lì ad aspettarlo, in posizioni ben preparate e ben difese dai monti. Diamo bene un'occhiata alla cartina, perché tutte le battaglie che vi descriverò nel seguito si svolgono in quest'area. C'è chi potrebbe dire che sono in realtà parti di una grande battaglia, anziché tre scontri ben definiti. Con la tipica arroganza inglese, Colley, il 28 gennaio del 1881, ordina praticamente un attacco frontale. Anche con cariche di fanteria la baionetta e cariche di cavalleria sulle posizioni boere. E potete immaginare come è finita questa cosa. Non molto bene. Nel frattempo i boeri riuscirono anche ad aggirare gli inglesi passando vicino al monte Mayuba e sparando di fianco e andando a intaccare le linee di comunicazione. La disciplina inglese qui però ebbe un suo peso e nonostante le perdite i soldati inglesi e i reparti riuscirono a ritirarsi in relativo ordine e si ritirarono su Prospect Hill. Qui Colley dovette decidere la prossima mossa e soprattutto risolvere il problema delle linee di comunicazione col Natal. Infatti il 7 febbraio partì una colonna con dei messaggi una colonna postale potremmo dire diretta verso il Natal con richieste di rifornimenti e rinforzi e questa colonna venne subito attaccata dai boeri e costretta a ritirarsi al campo su Prospect Hill. Colley era a tutti gli effetti circondato. Il giorno successivo l'8 febbraio decise di guidare personalmente di nuovo una colonna postale stavolta con il doppio degli uomini cercando di sfondare questo accerchiamento boero per andare a prendere rinforzi e rifornimenti. Dopo una marcia di poche miglia presso il guado del fiume in Gogo i boeri aprirono il fuoco sulla colonna. Lo scontro durò per tantissime ore fino a notte fonda e gli inglesi nuovamente furono costretti a ritirarsi su Prospect Hill lasciando 139 morti e feriti sul campo. Nell'arco di 10 giorni la forza di Sir Colley aveva perso circa un quarto degli effettivi. Qui interviene un po' il governo inglese perché il governo inglese non aveva alcuna voglia di continuare questo conflitto. Il Transval non era affatto un territorio prezioso e le risorse gli uomini i soldi della corona britannica servivano da altre parti. Quindi si iniziò a negoziare con i boeri una pace. Il 14 febbraio venne dichiarato un cessato il fuoco anche se gli assedi alle guarnigioni e l'assedio alla forza di Sir Colley continuò. quest'ultimo non era molto contento dei negoziati che vedevano gli inglesi in una posizione di debolezza e decise di agire di testa propria. Il monte Mayuba che abbiamo già visto dominava questo campo di battaglia molto più alto dei monti circostanti e con le pareti parecchio ripide e anche se più alto non era praticamente molto importante. Per ragioni ancora non del tutto chiare lo vedrete perché Colley decise di occupare questo monte il 26 febbraio del 1881 guidò personalmente una forza di 400 uomini in cima al monte arrivarono senza opposizione e da lì si potevano vedere le posizioni boere e la mattina del 27 quando i boeri si accorsero che ci sono inglesi sul monte inizialmente andarono al panico i soldati inglesi in particolare i soldati scozzesi d'elite stavano lì sul monte a insultare i boeri i boeri andavano al riparo perché si aspettavano per esempio del fuoco d'artiglieria il problema è che Colley non si portò alcun cannone con sé e né aveva preparato una posizione difensiva e i boeri che ripresisi dal panico iniziale molto rapidamente si accorsero di questa cosa si accorsero che non aveva artiglieria si accorsero che non aveva preparato una posizione difensiva e soprattutto che era isolato dal resto delle truppe inglesi rapidamente venne organizzato un contrattacco e nelle ore successive e sistematicamente i boeri avanzavano da copertura a copertura lentamente sfiancando gli inglesi inglesi che senza copertura sul monte potevano fare poco o niente la battaglia del monte Mayuba fu una disastrosa sconfitta per gli inglesi che persero 92 morti 134 feriti e 59 prigionieri mentre i boeri ebbero un morto tra i caduti inglesi vi era Sir Coley per questo non sapremo mai che cosa cavolo aveva in testa quando andano ad occupare quel monte la sconfitta fu terribilmente umiliante nella stampa dell'epoca per l'impero britannico ancor più della battaglia di San Luana nella guerra anglo-zulu due anni prima come abbiamo visto poco dopo i negoziati ebbero fine il 23 marzo 1881 si giunse finalmente ad un compromesso la repubblica boera del Transvaal otteneva uno status di quasi indipendenza potremmo dire la regina inglese era formalmente regina anche di quei territori e la Gran Bretagna controllava la politica estera della Repubblica Boera ma di fatto per tutte le altre cose erano indipendenti potremmo dire era uno stato vassallo della Gran Bretagna un successivo trattato di Londra nel 1884 diede ulteriori libertà e autonomia ai boeri che di fatto diventano stato indipendente anche se con dei vincoli di vassallaggio due considerazioni finali la prima è che questa guerra sembra una grande vittoria dei boeri ma non lo fu la vera fortuna dei boeri non fu tanto militare quanto economica l'Inghilterra non aveva semplicemente soldi e uomini da investire in quel momento per andarsi a riprendere la colonia ribelle era antieconomico e quindi dopo le piccole sconfitte perché furono piccole nella scala di altri conflitti rinunciarono semplicemente andarono ad accordarsi con i boeri come abbiamo visto i boeri hanno soltanto comprato del tempo con questa guerra la seconda considerazione è una considerazione militare anche se la scala del conflitto fu relativamente piccola banalmente rispetto alla guerra nello Zulu o la seconda guerra boera che vedremo ebbe risvolti abbastanza importanti per il Regno Unito e l'esercito inglese si riformò parecchio banalmente spoiler inizierà la seconda guerra boera e l'esercito inglese che andrà ad affrontare i boeri in questo conflitto sarà drasticamente diverso non solo abbandoneranno le uniformi rosse per uniformi kaki ma che meglio si adattano all'ambiente si mimetizzano meglio adegueranno tantissimo le loro tattiche e i loro armamenti ma questa è una storia per l'episodio successivo spero che questa breve presentazione della prima guerra boera vi sia piaciuta io come sempre sono Vlad Sparo Sokol se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi lasciate un commento ci vediamo alla prossima ciao